Oggi abbiamo visto nel video precedente il piano per raffreddare la Terra con enormi ombrelli da milioni di chilometri quadrati, mentre sul canale YouTube di Dino Tinelli come si inventano fiabe su Einstein per alimentare la narrativa ufficiale. Sappiamo che ha rubato la formula m è uguale c al quadrato. C'è un video, piccole pillole per le iene, Einstein ha rubato la formula e è uguale m c al quadrato all'italiano olinto depretto, a cui accedete da indice alfabetico attraverso la playlist piccole pillole per le iene. Inoltre, grazie al commento di Paolo, la teoria della relatività di Einstein è crollata da sola quando George Lamaitre ha tirato in ballo l'ulteriore teoria del Big Bang. Einstein riteneva l'universo infinito e Lamaitre in continua espansione. Ma adesso andiamo a vedere altre cose inaudite. Vyomitra, donna robot astronauta. Pensavo di aver visto tutto. L'India sta spostandosi al livello più elevato della stupidità umana. Ma è un manichino. Sembra un manichino stitico. Osservate come l'hanno conciata. Non è nemmeno un robot. Ma è veramente ridicolo un robot del genere. Ma dove pensano di andare? È troppo pericoloso andare nello spazio per gli uomini. Così hanno deciso di usare i manichini. Guardate la sua faccia. Pretende di andare nello spazio? Che cosa ci dirà? Ehi, sono arrivata nello spazio. Si vede la curvatura della terra. Queste non sono immagini in CGI. This will fly into space ahead of ISRO's ambitious Gaganyan mission scheduled for 2025. Gaganyan will be India's first manned space flight. Under the Gaganyan, ISRO will send three humans to an orbit of 400 kilometers for a three-day mission and bring them back safely to Earth. But why is ISRO sending a robot to space? The aim is to not fly animals like other nations but to fly humanoid robots for a better understanding of what weightlessness and radiation can do to the human body during long durations in space. Fantastico. Penso che abbiano chiesto alla NASA. Ci hanno dato dei suggerimenti semplicemente con quel manichino. Perché nessun umano avrà la possibilità di stressarsi. È una stupida, brutta fiaba. Meglio una pantomima, uno spettacolo per tamponare. Solo degli individui inetti possono cascare nella rete per credere una cosa del genere. Sono imbarazzanti questi video che riguardano lo spazio. Usano i manichini al posto dei veri robot. Robot che nemmeno esistono. Qui stanno iniettandovi la misera narrativa di quello che non esiste per farvi credere. D'altra parte è pericoloso veramente per gli esseri umani andare veramente nello spazio. Ma vi fanno credere a dei manichini con una faccia da manichino per dirvi che la terra è una palla. Vi mostreranno delle ridicole immagini in CGI. Un momento. Conosciamo già tutte queste capacità. Vedete che è un manichino. Un sistema che parla a due lingue si trova su tutti i dispositivi che avete nelle mani. Ma questo è semplicemente un ridicolo manichino. Esiste veramente chi difende una cosa del genere? Qualcuno che è prode di una bagianata simile? Ma è una cosa da circo. Le scimmie crederebbero che si tratti di un clown. Si tratta solo di spazzatura riciclata. La solita. Solo che ora al posto degli uomini avete dei manichini. Che sono robot che vanno nello spazio. E quando dico spazio vuol dire che sono nel vuoto. Non c'è nessuna possibilità di accedere al vuoto se non passando attraverso le pareti di un contenitore solido in grado di separare la pressione dell'aria nella quale ci troviamo ed andare nel vuoto. Purtroppo i credenti, i fanatici dello spazio pensano che si tratti di eroi con la forma dei manichini. Questa non è scienza. È solo delusione della pantomima dello spazio, dei CGI e adesso dei manichini.